Signor Torg, signor Torg, gli oceani sono sempre più inquinati. Lei ha qualche idea per riuscire a pulirli, a sistemarli, a riportarli in salute? Questa posizione è davvero scomoda! Nuova missione! Voglio che facciate esplodere l'oceano! Ehm... ok? Oh beh, se lo dice il signor Torg, cosa mai potrebbe andare storto? I nostri oceani, i nostri fiumi, le nostre spiagge sono piene di spazzatura e di plastica. E ovviamente i metodi esplosivi del signor Torg non possono sistemare il problema. Le stime parlano di 200 milioni di tonnellate di plastica già presenti nell'oceano e di oltre 11 milioni di tonnellate in arrivo ogni singolo anno. È tempo di iniziare a risolvere questo problema. Ora, non in futuro. Per cui io, Roid, sto collaborando con MrBeast, Mark Rober, probabilmente li conoscete, e altre centinaia di grandissimi youtuber per iniziare una nuova campagna di beneficenza del tutto simile alla ormai famosa TeamTrees. Questa volta si chiamerà TeamSeas. E lo scopo è raccogliere un totale di 30 milioni di dollari per tirare via 30 milioni di libri di plastica e spazzatura dall'acqua del mare. Il come verrà fatto è molto semplice. I soldi verranno poi divisi 50-50 tra due onlus. Una si occuperà di raccogliere la plastica dalle spiagge per evitare che torni in mare alla prima mareggiata, mentre l'altra si occuperà di tirare via la plastica da fiumi e mari in modo che non vada poi a disperdersi, perché i fiumi contribuiscono a circa il 20% della plastica che arriva negli ondeceani ogni singolo anno. L'inquinamento del mare si ripercuote su tutto il pianeta, non solo su chi vive nelle zone costiere. E andando avanti così i problemi saranno sempre, sempre maggiori. Quindi, ma cosa serve in generale questo video? A invitarvi a controllare il sito di TeamSins.org e controllare bene dove finiscono appunto i soldi, quali sono le onlus, eccetera. È tutto chiaro e trasparente. E una volta che sarete sicuri vi chiedo di donare quello che riuscite, che sia un euro che siano 100, quello che riuscite per riuscire ad arrivare ai 30 milioni entro la fine della campagna, che è entro il primo gennaio dell'anno prossimo. La campagna durerà quindi circa due mesi e mezzo per iniziare a dare un aiuto concreto ai nostri oceani. Ogni singola donazione è importante e ricordatevi che insieme riusciremo sicuramente a fare la differenza. TeamSins.org, link in descrizione. Grazie.